guardate il polpo piagnucolante attenzione ai pupazzi di neve come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro i miei ghizmo sono tornati non so come ringraziarvi team umizumi niente vale di più di un migliore amico Millie e Geo sono i miei migliori amici anche tu sei il nostro miglior amico bot e tu che dici? ce l'hai un migliore amico? bene wow ma come facciamo a superare tutti questi costumi appesi? i miei ghizmo sono tornati non so come ringraziarvi team umizumi grazie per avermi fatto scendere jack qualsiasi cosa per te amico allora abbiamo trovato jack e il gigante abbiamo trovato tutti i personaggi perduti delle fiabe guarda i bulldog ma che cosa stanno facendo con tutti quei bauli? benvenuti nella cantina di costumi del castello questi cani da guardia sono nobili protettori vedete? vogliono tenere i bauli al sicuro dalla collezionista di costumi e aiutarli potete hanno molti bauli da spostare se vogliono il lavoro finire se volete superare questi bauli che spreciano veloci sopra ognuno di loro dovrete saltare che altro può fare felice di lei farfallù? magari le piace ballare si spostila prego signora lepre che divertente perché questa grande lepre non ci lascia passare? io gioco ora bravo a saltare i peopling fanno hop e saltano hop hop salto bravissimi guarda i bulldog ma che cosa stanno facendo con tutti quei bauli? benvenuti nella cantina di costumi del castello questi cani da guardia sono nobili protettori vedete? vogliono tenere i bauli al sicuro dalla collezionista di costumi e aiutarli potete hanno molti bauli da spostare se vogliono il lavoro finire se volete superare questi bauli che spreciano veloci sopra ognuno di loro dovrete saltare blush skit no ehi guarda un rospo un rospo che suona la chitarra credo che sarà bello da vedere e da ascoltare wow attenzione raditore enormi ci stanno cacciando dalla scacchiera ehi guarda un rospo un rospo che suona la chitarra credo che sarà bello da vedere e da ascoltare temo proprio di sibu ehi ma perché oggi tutti parlano in modo così buffo? ma certo sono le zappe di un uccello cosa possiamo piantare allora? per riuscire ad arrivare al luna park dovete entrare come facciamo a passare in mezzo a tutti questi cubi che corrono? è troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi guarda i bulldog ma che cosa stanno facendo con tutti quei bauli? benvenuti nella cantina di costumi del castello questi cani da guardia sono nobili protettori vedete? vogliono tenere i bauli al sicuro dalla collezionista di costumi e aiutarli potete hanno molti bauli da spostare se vogliono il lavoro finire se volete superare questi bauli che sprecciano veloci sopra ognuno di loro dovrete saltare vinceremo la corsa in bicicletta vinceremo il trofeo dei giochi umi come facciamo a passare in mezzo a tutti questi cubi che corrono? è troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi guarda i bulldog ma che cosa stanno facendo con tutti quei bauli? benvenuti nella cantina di costumi del castello questi cani da guardia sono nobili protettori vedete? vogliono tenere i bauli al sicuro dalla collezionista di costumi e aiutarli potete hanno molti bauli da spostare se vogliono il lavoro finire se volete superare questi bauli che sprecciano veloci sopra ognuno di loro dovrete saltare non nooo n n n n n n n n è una carota sicuramente si, il gabbiano viene qui penso che voi dobbiate cambiare posto incredibile, hanno risolto